La ricezione è lo stesso Scrimov che va ad attaccare la seconda linea, gran muro di Yosifov, va a fermare, poi altra possibilità che stavolta se la gioca è la Kdaddy e attenzione perché Viktor Yosifov parte con due muri. Va a cercare Scrimov, ancora una ricezione, poi la Kdaddy, va a incocciare ancora con le mani a muro di Viktor Yosifov. Strokeback, poi Kadu, ancora il muro di Viktor Yosifov, un altro mattone. Lui ha detto bene, la battuta di Beretta, ricevuta poi Stroba, ma Yosifov dice no e se lo dice lui.